Sono carico e poi anche i ragazzi mi hanno raccoltato benissimo la squadra, quindi siamo in un momento in forma dove possiamo puntare già sia in Coppa Italia, sia in Champions, sia nel campionato. Sappiamo che è difficile, però io sono pronto a mettere il mio pizzico per aiutare le squadre. Devo dire che qua ti tengono alla grande, devi pensare solo a giocare perché poi qualsiasi cosa che succede c'hai dentro una staffa impressionante e poi la gente, devo dire che è stato benissimo con me. Quindi spero di dare grande prestazione per questa squadra perché veramente ti danno la possibilità di fare quello che ti piace di più che giocare il calcio. Sì, magari per tutto ciò che è successo fuori, però penso che adesso le cose sono più calme e si può pensare solo a giocare, che quello è l'importante alla fine noi facciamo il spettacolo e la gente vuole vedere quello. Sono parole buone, un mister di una squadra che penso che adesso sia messa bene, sia in forma, però io sono fiducioso che possiamo fare qualcosa di importante e poi alla fine si vuole arrivare al massimo, devi giocare contro tutti. Quindi questo Barcellona, se vogliamo arrivare nella finale, si deve battere.